amici di bella sicilia il giorno speciale di oggi a questo campo di tulipani e ci lascia a bocca aperta ed è una passeggiata davvero speciale che ci sta riempendo di grandi emozioni un colpo d'occhio meraviglioso, una pace e dei colori che vi lasciamo giudicare a voi per queste immagini in diretta da Blufi quando il santuario della Madonna dell'Olio le tante persone che stanno godendo di questa passeggiata indimenticabile nel periodo primaverile è una tappa che non può e non deve assolutamente applicare molto bene questa cosa è stata un'altra cosa E' una foto qui a praticamente doppio. E' una foto qui, come se qui si pensi. Io che le ho mandato tutte, poi con le pote. E' una foto qui. Aspetta che faccio una foto. Come la volete? Con il mio telefono appena che c'è una modalità. I tulipani di Madonna dell'Onto. Siamo a Blufi e per tutti coloro che si possono uscire adesso in video, stiamo spiegando queste meravigliose immagini. Scusa, ce l'ho appena un po'. Grazie. Stavolata, noi siamo tutte con le migraie appena una pote. No, che tappetti. Non c'è un po' in orizzontale così via. Non sei il rosso però? E tu li panichi e te ne ho. Tu li panichi a noi vanno. e voi da dove venite? Valermo cosa ne pensate di questo? molto strumento per esserci attrazioni della nostra bella Sicilia ed ecco appunto noi siamo alla parte da qui lo slogan è allora salutiamo tutti ciao buona passeggiata grazie altrettanto bella Sicilia buongiorno io sono il proprietario allora ci parli un po' di questo luogo tante persone stanno guardando e si stanno innamorando di questo luogo questo luogo è sempre stato conosciuto qui ora era limitato solo agli abitanti di Brufi con l'apertura dello svincolo qui ogni anno sono passate sempre più persone che negli anni passati non si limitavano a fare le foto ma si portavano a casa i tulipani li raccoglievano i pulpi raccoglievano i tulipani a fascia a fascia si li vendevano quindi da quest'anno noi abbiamo ricendato il terreno per evitare proprio che la gente venisse a raccogliere i tulipani e abbiamo creato questo percorso all'interno dove la gente ha la possibilità di camminare tra i tulipani e di farsi delle belle foto da vie un tulipano quest'anno non è uscito da dentro il campo la gente viene qui per scattare le foto da vie e passeggiare dentro i tulipani come vedete è un posto unico in Sicilia dove sull'altra parte abbiamo trovato un posto così e ce la stiamo mettendo in tutto ogni giorno vengono tantissime persone e siamo qui a tutelare proprio questo bellissimo ci dico una cosa il tulipano che pianta è? come cresce? allora il tulipano è un bulbo questo bulbo l'hanno portato i sarageni tantissimo tempo fa quando abitavano qui al convento praticamente con il lavoro di arattura che facciamo abbiamo moltiplicato i bulbi negli anni praticamente dal bulbo nascono dei pollini delle piccole palline che l'anno dopo si moltiplicano si dividono praticamente dal bulbo principale e contribuiscono a moltiplicare questi bulbi il tulipano per esattezza è tulipano di raddi si chiama con due d e due è una specie vedete è un tulipano selvaggio è stato piantato nel 1100 praticamente questo tulipano quando abitavano i monaci qua al convento e praticamente siamo arrivati ora ad avere tutti questi tulipani in mezzo al caldo in che periodo dell'anno si trovano? allora il tulipano in cui si trova inizia a friurire a metà marzo quest'anno siamo un po' in ritardo per via del freddo ma se ritengo il periodo migliore è da metà marzo ai primi di aprile quindi invitiamo tutti il prossimo anno il prossimo anno a venirci a trovare per godere di questo posto magico sembra di essere come ci hanno descritto un po' tutti la grande della Sicilia grazie grazie a voi grazie a voi a me a me a me a me a me a me